Leo, il camioncino curioso e il semaforo ecco Leo che sta arrivando buongiorno Leo è una bella giornata perfetta per fare una passeggiata nel parco giochi attento Leo! ci sono molti veicoli che vogliono attraversare l'incrocio ma Leo, tu vieni da una strada secondaria non puoi passare per primo Leo, ci serve un semaforo ne costruiamo uno insieme? per prima cosa scarichiamo le parti per prima cosa scarichiamo le parti prendiamo la lanterna eccola mentre alla quale andranno le luci colorate poi il palo le lampade colorate rosse e gialle ma Leo mancano alcune lampade quelle verdi andiamo a cercarle? ciao Lifty ha molte lampade colorate possiamo prenderne qualcuna? grazie Lifty leo sai quali sono quelle verdi? quelle esatto bravissimo Lifty le puoi caricare sul cassone di Leo? benissimo e adesso portiamole al semaforo bambino finalmente ogni cosa è al suo posto rosso giallo verde funziona mettiamolo al bordo dell'incrocio che tutti lo possano vedere adesso i veicoli sanno che possono passare quando la luce è verde e fermarsi quando è rossa adesso puoi passare anche tu Leo bel lavoro ci vediamo alla prossima puntata ci divertiremo ancora ciao Leo